Tre buone ragioni per venire a Stradella è che Stradella è una bella città, perché Stradella è in grado di unire il passato al presente con ambizioni per il futuro, perché a Stradella si vive bene, si mangia bene e si beve bene. Stradella oggi è una città di dimensioni medio-piccole che soffre la sua dimensione, cioè una città che non è ancora in molti aspetti paese, ma con ambizioni e necessità di una vera e propria città, con una rete di servizi quindi, che sono tipici di una città, senza tante volte, avere le risorse e le energie per poterle mantenere. È una città che comunque ha saputo svilupparsi, ha saputo crescere in questi anni, è una città che è riuscita a proiettarsi nel futuro con la capacità di unire sviluppo urbano, cultura, e la tradizione. Ben vivere e vivere bene. Di fare di Stradella un luogo capace di valorizzare l'ambiente, la cultura e la tradizione, laddove la tradizione non vuol dire atteggiamento o veletà passatistiche, ma dove tradizione vuol dire consapevolezza delle proprie radici e del proprio essere stata, per costruire su questo le basi di una proiezione verso tempi e situazioni nuove. Sicuramente intorno al progetto ormai consolidato del teatro, l'idea di una dimensione culturale in senso lato, laddove cultura non è soltanto quella torre d'avorio un po' aristocratica, ma dove cultura è un patrimonio di fare e di saper fare, di conoscenze e di capacità messe in atto nel tempo, che può diventare davvero un patrimonio e una risorsa per un futuro che passa attraverso un presente sicuramente difficile, non facile per tutto il paese. Fare di stradella un luogo capace di valorizzare l'ambiente, la cultura e la tradizione, laddove la tradizione non vuol dire atteggiamento o veletà passatistiche, ma dove tradizione vuol dire consapevolezza delle proprie radici e del proprio essere stata, per costruire su questo le basi di una proiezione verso tempi e situazioni nuove. Per me cultura non vuole dire soltanto conoscere il nostro passato, fare delle belle manifestazioni culturali, ma cultura vuol dire anche valorizzare un patrimonio, come dicevo, di conoscenze, un patrimonio di servizi, di servizi alla persona in senso lato, di un patrimonio anche come dire ideale di tradizioni che si pone, secondo me, come una delle condizioni fondamentali. Per avere come momenti di attrazione anche quello che è un patrimonio anche di saperi nell'enogastronomia, nel patrimonio di un artigianato di qualità, una dimensione culturale nel senso vero della parola. Come sono stato bene in un periodo più o meno lungo in cui sono stato stradella? Io credo che questo ricordo possa essere acquisito proprio dalla disponibilità anche della nostra gente, della capacità della nostra gente di conservare una genuinità, una schiettezza che è stata riconosciuta da molti. Quindi l'episodio a me è rimasto molto impresso, o gli episodi rimasti molto impressi, proprio partendo dal teatro, di compagnie, di attori, anche di grido, di fama, che vengono a stradella e che lasciano sul registro del teatro il ricordo di un piacevole soggiorno e soprattutto sottolineano come si sia conservato e come hanno potuto apprezzare la dimensione umana e i rapporti interpersonali che molte altre parti non hanno mai trovato. Credo che questa sia una bella testimonianza che collega quell'idea di cultura, di vivere bene, di saper star bene, che noi vorremmo perseguire. Certamente poi mi piacerebbe che avessero anche tante cartoline, portassero tante cartoline nei nostri luoghi più belli, i monumenti, in momenti particolarmente belli e piacevoli, i negozi di qualità, la possibilità di aver goduto un momento di tranquillità e di serenità nei nostri locali. Ecco, tutto questo messo insieme in un ricordo appunto di un soggiorno, ripeto, corto, lungo che questo sia stato, di piacevolezza e di serenità. Ecco, ecco. Grazie. Grazie.